Pescina, Santa Maria delle Grazie diventerà Basilica. Una conferenza stampa è stata indetta stamattina dal comune di Pescina insieme alla diocesi dei Marzi, a cui hanno partecipato Monsignor Pietro Santoro, Vescovo dei Marzi, il sindaco della città di Pescina Stefano Iulianella e i sacerdoti delle due parrocchie Don Giovanni Venti e Don Michele Saltarelli. La cerimonia religiosa si terrà domenica 4 dicembre a partire dalle ore 17 e 30 presso la concattedrale dei Marzi Santa Maria delle Grazie. Nel corso delle celebrazioni la chiesa verrà elevata a dignità di Basilica minore o Pontificia. Il titolo di Basilica, assegnato alla concattedrale dei Marzi sul richiesta del Vescovo Pietro Santoro, indirizzata dapprima alla conferenza episcopale italiana, poi alla congregazione del culto divino e disciplina dei sacramenti, viene riconosciuto dal Santo Padre allo scopo di rafforzare il vincolo che una singola chiesa ha con il Vescovo di Roma, anche in considerazione della sua importanza nel territorio. La concattedrale di Santa Maria delle Grazie infatti custodisce i resti mortali di San Berardo, cardinale e Vescovo della Diocesi dal 1109 al 1130, mentre la città di Pescina ha dato i Natali a diversi personaggi che nella storia hanno avuto un particolare rilievo, nonché nei vasti campi della cultura. A conclusione del giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco, questo momento di preghiera e d'incontro vuole accompagnare il riconoscimento ufficiale della concattedrale, quale dimora del signore del cielo e della terra. Domenica 4 dicembre a partire dalle ore 17 e 30 la concattedrale dei Marzi Santa Maria delle Grazie e la chiesa di Santa Maria delle Grazie verrà elevata al rango di Basilica minore o Basilica pontificia. Questo è avvenuto grazie alla intercessione del Vescovo dei Marzi, Sua Eccellenza Monsignor Pietro Santoro, che ringrazio personalmente insieme ai due parroci delle chiese di Pescina, Don Giovanni Venti e Don Michele Sattarelli. È un momento importante nella comunità religiosa pescinese perché è una chiesa che già di suo ha un rango diverso dalle altre perché è la concattedrale dei Marzi, perché è stata sede della diocesi dei Marzi fino al 1915, sede che poi è stata spostata ad Avezzano provvisoriamente e lì è rimasta. Una chiesa dicevo che ha già una sua importanza e che oggi viene elevata ad un rango superiore. La comunità pescinese, la comunità religiosa, ma anche la comunità civile, la comunità delle istituzioni si appresta a vivere questa giornata bella. Questa giornata importante, questa giornata che lascerà sicuramente nel cuore di ognuno di noi belle emozioni e belle sensazioni. La cerimonia verrà ufficiata da Monsignor Bertelli, Cardinal Bertelli, insieme al Vescovo dei Marzi Pietro Santoro e a tutti i parroci della diocesi. Ha assicurato la presenza anche il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che sarà con noi appunto per vivere insieme alla comunità pescinese questo bel momento che arriva appunto il 4 di dicembre alle ore 17.30. Domenica 4 dicembre la concattedrale della diocesi dei Marzi di Pescina sarà elevata la dignità di Basilica minore. È stata rivolta da parte mia, cioè da parte del Vescovo, una istanza a Papa Francesco. Papa Francesco benevolmente ha raccolto questa istanza e quindi vivremo questo grande evento, una grande liturgia che sarà presieduta da sua eminenza il Cardinale Bertello, che è governatore della città del Vaticano. Quando una Chiesa viene elevata a dignità di Basilica minore, non è soltanto un evento onorifico di titolo, ma è la Chiesa stessa, quindi la diocesi in questo caso, che viene riaffermata nella sua vicinanza al Papa. E tutto questo ovviamente è un motivo di orgoglio, motivo di fierezza cristiana, ma nello stesso tempo esprime anche la volontà del popolo santo di Dio, della diocesi, di camminare in comunione con il Papa. È da tener conto che la concattedrale di Pescina contiene le spoglie di San Berardo, il grande vescovo del Vangelo e della Carità.